ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di DOOM 3 adesso stiamo insieme in multiplayer con se volete vedere l'altro visuale andate nel loro canale mentre se volete vedere la visuale mia del pro gamer io senza dubbio venite nella mia ok sei scimo ok blu tu fai blu io farò una partita insieme a tu fai blu no tu sei red tu sei blu e sorelle guardate ok ok cominciamo questa nuova avventura giusto 8 e però agito per lui n n n n e si parte la testa finita siccome già sull'abitura secondo me allora veramente lo stesso ma io sono io scherzo scherzo ma che culo pure sporati ma ma c 2 0 che culo con la caccia valbore e a posto ha già rivendicato a togno da 2 la maia grazie grazie leo e ora è un momento di da me a vabbè si capita tutti se a tutti quanti va bene vabbè natura io c'è già no maledetto un camminico io ti voglio grazie se ci riesce io non scemo è un grande gg perché non è vero ecco sita no donna non ti fai niente facciamo l'immissibilità bravo bravissimo andiamo a fare l'immissibilità cavolo perche' spero le luci che combina per le voci aspetta lo vedete la caccia 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 è una posizione ha morto l'ho trovato la donna buona siamo in prima posizione se non ti preoccupare da una ragazza per un rock rock shock rock 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 caccia belletto davvero caccia 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 non ha senso noti mi hanno ucciso davanti non ha senso dai non ho via appena mi viva qualcuno che mi colpisce non ha senso ma perchè sparato che c'è da se spari il naturale che ti vuoi dire è una cosa pure reale bello caccia aspetta mcg sei dietro caccia spara io posso sparare anche vieni qua usci di sacco tavolo trova qualcuno di fatica cugli dove siete in anina dove siete caccia e caccia l'ultimo roma l'ultimo roma 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 caccia un caccia caccia roma caccia 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 manegra caccia caccia carini e il per le la lo stesso la stavano accambati gli scemi stavano ma non si accambano sempre ciao no sto schifoso sto schifoso sto schifoso raggio più copi per i pistoli rossi la storia la cacca con la vita che non mi rende i nomi e allora siamo nella cacca ma che cosa con la shotgun non so perchè pure a me certe volte no ha visto che cosa significa che ci sono perché ti stavi accambato con alfessi non mi toccato si non ti ho toccato ti ho dato un bel colpo di shot canica pranzi proprio ah eccolo il mio vecchio rock che ci fai qui è proibito a questo posto non si può si è carnetto per il bug voglia marzo però stiamo perdendo di frutto 30 due codi due kill e' parte di aiutare e' parte da un'altra stessa qui ma che è un buono ma la stai ma te io sono pure la catena e che è la e' la e' la e' la e' la ma' la ma' la ma' la ma' la c'è tutti si copi per il loco e' la che si freddi due navi per posti piccana l'ultima capo ragazzo non facciamo toglierò si può il testo di te ok sta registrando la coppia che la la cosa trappola la vacca oggi sono letto andate erano fatta partita la cittadina cittadini si è mai noto a me nessuno scuola la rete vede vede si chiacchino capimano e l'avamo battuti riuscite la corte di chi è quello c'è l'invisibilità c'è abbatto tutt'ulto d'ampli riusciti omane perchè nottri vedi da lui xd alessare ieri il sito rosa orari hanno paura non voglio lecitelli di bella un senso 4 3 2 e 1 ok ricominciano mandato a che culo c'è un'attività c'è stato di rischio e noi me ne vado e me ne vado raravano cuore il buoni perciò anche se lo scappato e non è nessuno scappato e se lo scappato io se vado ormai mi chiamano come voglio quando me la cama poco c'è un'altra le canzoni di merda la lecce il medico il medico la grande gg c la vera e p cc e va bene ma sarà molto lungo la pistola ma tutta la vita la faccina che bello che bello adesso se non giocare la mia lecce 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 il cliente un matto con due di vita sei rimasto santa e portavo con noi via da che se va a vincere via erano la gente ecco un'attesa posto a non ci sono anche il culo l'opera l'opera vabbè il salto buona volta la situazione e su infame non è la stagione la buona e ora noi siamo ma te prevede davanti da il mare è vero e per picello la stagione e ti ho visto pazzo il cavolo è successo perché la calda blackout no ho attivato la camera eh no questi è scelcoso dell'invisibilità ti ho rivelato il mio seguito perchè mi hai chiuso mo eh sei scemo mo deve morire 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 mi hanno bloccato la porta oh cacchio chi si è preso il plasma gun io no è un prende cos'è l'invisibilità alla faccia la vostra ma non c'è riporto perchè te ribalzo un'altra cosa appartamento oh no 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 in credito neanche grande r la pittoletta la ma possibile che non mi è un'altra ma ieri andrà a me quando mi è giù un'altra domanda riscassi in sicurezza e la vita per gc per cura per me che cosa sparano sparano lezioni del giardino dai 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 stai siciliani davvero abituate di mio nome e l'arrivo non clicare questo caso se mi imparate si è imparata a batterci alberto i suoi la davvero buona la sera 7. ragazzi per favore si è una mamma a favore giara carabinieri di chi è venuto non c'è che ha messo il palco sono io sono io ho bello un certo per la città no cacchio sento per un certo sto a prendere sanzendo niente no 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 la cosa così è qui in seguito da te ma se vi è piaciuto mi racconto porcini su commentate condividi la prossima fondamenta con i for player disx player ciao a tutti